Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il comune di Tortoreto più ricco di 2 milioni di euro. Il MEF ha restituito la somma indebitamente trattenuta relativamente al fondo di solidarietà comunale, quel fondo cioè che i comuni più virtuosi e ricchi pagano per sostenere quelli in difficoltà. Il tesoretto è frutto del ricalcolo del fondo che diventa così extragettito tributario da spalmare nel bilancio di previsione. È un lavoro che è partito da lontano, allora quando ci siamo resi conto che il fondo di solidarietà comunale di circa 1 milione e 850 mila euro che il comune di Tortoreto versa allo Stato doveva essere in qualche modo rivisitato proprio in virtù delle normative che dal 2012, l'anno in cui è stato istituito questo fondo sono sopraggiunte delle nuove normative che hanno semplificato e hanno ridotto in percentuale il fondo di solidarietà comunale che il Ministero non ha mai adeguato e quindi ci siamo attivati proprio in questo senso. È stato fatto un grande lavoro nella rivisitazione della banca dati di tutte le situazioni che avevamo in essere. È stata presentata giusta documentazione al MEF il quale in un controllo capillare alla fine di questo lavoro è arrivato a riconoscere alla nostra amministrazione questa somma di circa 2 milioni. Il ricalcolo riguarda il periodo compreso tra il 2014 e il 2020 è verte sulla sovrastima del gettito Imo incassato dal comune di Tortoreto e trattenuto dallo Stato. Ci sarà adesso da recuperare il 2021-2022 per poi andare a regime? Esattamente, sì. Già gli uffici si sono attivati per queste ulteriori due annualità quindi al più presto presenteremo al MEF richiesta anche per questi due anni per avere il giusto ristoro del fondo di solidarietà comunale erroneamente pagato dal comune di Tortoreto.